Questo non so cosa per te. Ti riconosco. Dimmi del chupapelo. Se tu mi era nata possibilità, io c'è possibilità. Tu te ne vai a Roma. Ho rilevato un'attività. Un ristorante. Si parla da strunzata. Quello che deve succedere, succede. Avorto. Questa te la chiami carbonara? Ho avuto un'idea. Tu vieni a lavorare per me. Levati. Così si brucia il fogerà. Decido tutto io. Menù, fornitori e brigata. Voglio assoluta autonomia. Prendere la cena. Da domani... Benvenuti al nuovo Picchio Blu. Che cosa ha preso il 9? Il piatto è come un quadro. Solo che il pittore usa i colori e non gli ingredienti. Sì, certo. Non c'è una forma d'arte più pura della cucina. Mi ha detto questo e veniva dal cesso. Ho visto qualche roba, brava. Senti, guarda, questo è il mio sogno. Trovatene uno tuo e levati dal cazzo. Io un sogno mio non ce l'ho mai potuto avere. Capito? Bravo. Prasi. Per una volta che mi sono fidata. Sono proprio una stronza. Fammi capire. Prepari una scena a quelli che stanno venendo a ucciderti. Ti giuro, sto ancora aspettando. Mi sentirei sentirei sentirei... Fante fermo! C'è solo una speranza che funzioni. Se cucino io. Quasimmeno. Turgue. 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 Grazie a tutti.